12 corpi 22 ottobre 2015 31 ottobre 2015 Ucciso in un attacco razzista in una scuola In Svezia Annegata Allarga delle coste della Turchia Morta nelle acque del mare Aegeo Nel tentativo di raggiungere la Grecia Affogato È morta in un campo migrante di Opatovac in Lucrazia Nel tentativo di raggiungere la Germania Investita da una macchina Vicino a Calimbo Grazie a tutti